La Germania è entrata ufficialmente in recessione tecnica. A dircelo sono stati dati pubblicati nell'ultima settimana e adesso che fare? Quali prospettive? Lato investimento? Lato speculazione? Che cosa accadrà all'economia tedesca locomotiva d'Europa? Spero in questo breve video di darvi ancora una volta degli spunti utili anche per coloro che si stanno o meglio avvicinando al mondo dei mercati finanziari anche per coloro che magari non masticano proprio quelli che sono alcuni dittac economici. Andiamo subito a rivedere quelli che sono stati dati pubblicati. Andiamo con le fonti ufficiali come sempre a vostra disposizione e condivido quello che è l'istat tedesco destatis.de il sito a cui sto facendo riferimento attraverso la grafica che ci mostra attraverso la pubblicazione del 25 maggio 2023 proprio l'ultima rilevazione del pile su base trimestrale tedesco in calo ancora una volta qua trovate il grafico degli ultimi 15 anni circa ma soprattutto vedete la tabella delle ultime rilevazioni trimestrali con quarto trimestre 2022 meno 0,5 per cento primo quarter 2023 meno 0,3 per cento la consecutività di queste due rilevazioni negativo appunto sancisce la recessione tecnica ed immediatamente qua si potrebbero aprire tanti scenari solo per parlare di tutto questo. Ma quali possono essere allora adesso i dati da seguire più da vicino per quanto riguarda la Germania? Beh magari vi irrà in mente immediatamente la disoccupazione che vi mostro subitissimo soprattutto vi voglio far notare quello che è accaduto negli ultimi 25 anni. Prendo un quarto di secolo a disposizione perché ancora una volta vorrei farvi notare come in Germania ci sia stato un calo drastico negli ultimi anni della disoccupazione proprio diciamo dall'altra parte a favore di quella che è stata la crescita economica a che tuttavia seppur con i rialzi degli ultimi mesi a mio avviso insomma non è così preoccupante. È vero se si dovesse parlare appunto di un scenario un po' preoccupante questo potrebbe essere l'inizio di un periodo piuttosto difficile. vero ma non facciamoci prendere come al solito delle emozioni che non pagano mai sui mercati finanziari. Insomma da questo punto di vista però la disoccupazione come sappiamo un leading indicator potrebbe arrivare in ritardo al solito ci potrebbero essere sicuramente e sempre sarà così per quanto riguarda la reazione che hanno i mercati finanziari ai dati pubblicati insomma non c'è mai correlazione davvero importante si fa tendenzialmente confusione. Vi vorrei dare però un altro spunto perché ripensando a quelli che potrebbero essere degli indicatori validi com'è e come si sta muovendo il tasso delle insolvenze nelle aziende tedesche. Ancora una volta il sito l'istat tedesco ci dà un articolo ma io ci fornisce ci condivide un articolo pubblico lo potete andare a vedere anche voi datato 12 maggio 2023 quindi di qualche settimana fa relativo proprio alle richieste di insolvenza. Beh nell'ultima rilevazione c'è stato un calo importante ma quello che vorrei far notare che magari appunto può essere anche uno spunto per iniziare a seguire questa rilevazione è che negli ultimi mesi tuttavia il trend di insolvenza è in crescita quindi non è proprio un dato diciamo che ci fa dormire tranquilli perché se ci facciamo caso da quelli che sono stati praticamente i bottom del 2022 ed inizio 2022 o meglio la dinamica è sempre letteralmente cresciuta e questo sicuramente può destare ancora una volta preoccupazioni ma tant'è che insomma vedremo che cosa succederà e non è una parola detta a caso questa o una frase detta a caso quando si parla di scenari così negativi recessione, crollo economico, relativo crollo dei mercati finanziari ma chi può sapere di che entità e che escursione eventualmente avranno i mercati? Ecco sono parole al vento quindi andiamo con calma step by step a vedere nelle prossime rilevazioni come si muoverà l'economia tedesca come reagiranno le aziende all'ambiente macroeconomico finanziario in corso tassi di interesse eccetera 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 e così via non ci facciamo prendere né dal panico né da chissà quale altra emozione. Prima di andare direttamente sui grafici perché appunto voglio farvi vedere quello che sta accadendo sul DAX e sul BUND che sono praticamente due benchmark di riferimento per quanto riguarda i mercati finanziari lato equity e lato obbligazioni tedesche ovviamente vorrei ancora una volta ringraziare in primis MaxM per il supporto che ci dà nella realizzazione di questi video. MaxM è un introducing broker di interactive broker e soprattutto quindi da questo punto di vista una certezza una solidità assoluta ma MaxM vi dà di più perché vi dà assistenza completamente in italiano vi permette di effettuare ordini telefonici gratuiti e attenzione due promozioni diciamo in una ma ne parlerò anche successivamente di questi aspetti. Per coloro che hanno già un conto aperto su interactive broker è possibile collegarlo ai servizi di MaxM semplicemente cliccando sul link che trovate in descrizione ed inoltre attenzione perché chi apre un conto nuovo o chi appunto lo collega a MaxM già esistente ma comunque sia MaxM offre ben due anni di rielaborazione fiscale del conto trading attraverso uno studio partner e MaxM si prenderà a carico delle spese necessarie. Beh due promozioni in una mettiamole così ci torneremo ancora una volta a ricordare o meglio ci tornerò nei prossimi video per ricordare tali aspetti ma insomma possono sicuramente interessare queste dinamiche a tutti coloro che eventualmente hanno o che vogliono aprire un conto nuovo con interactive grazie al supporto che vi dà MaxM come sempre tutti i link di riferimento in descrizione. Adesso però attraverso la trader workstation andiamo a vedere sui grafici quello che sta avvenendo sul DAX e sul Bund partiamo dal DAX stavolta vi faccio vedere l'indice DAX in piattaforma partiamo da quello che è un grafico settimanale come vedete ho già posto un riferimento molto importante in area 16.250 circa che sono stati i massimi battuti tra fine 2021 inizio 2022 e poi ci siamo tornati praticamente nelle ultime giornate e che ancora una volta hanno sancito un tetto insuperabile una barriera che ha sancito nuovamente la fase di vendita che ha appunto definito quella che è l'ultima candela che vedete visualizzata. Tra l'altro per coloro che sono interessati possono anche valutare il time frame mensile mancano pochi giorni alla chiusura del mese stesso e c'è una dinamica anche lì molto interessante non è un invito valido per coloro che sono che fanno parte del percorso formativo ragazzi del percorso visionano tanti grafici insieme a noi insieme a me insieme a Giuseppe Locasano insieme al prof Angelo Ciavarella quotidianamente perché cerchiamo di dare e offrire supporto perché si chiama proprio percorso attraverso quello che sono le dinamiche esistenti sui mercati finanziari e cercare di collegare quello che viene lato finanza e lato ovviamente economia per coloro che sono interessati trovano il link in descrizione. Finiamo e terminiamo questa breve analisi sul DAX perché perché anche qualora dovesse arrivare un ulteriore approfondimento di questa pressione ribassista in corso nelle ultime giornate un primo test importante arriverebbe intorno a area 15.600-15.700 punti che all'altro riferimento che ho tracciato sul grafico vedete è un'area di interscambio prima ha fatto da resistenza durante praticamente il mese di febbraio marzo successivamente ad aprile ha fatto da supporto per le quotazioni ogni volta che si avvicinavano a quei livelli subito ripartivano le ricoperture in buy ma anche qualora si dovesse vedere una rottura ribassista di tali livelli potremmo andare a rivedere i 15.100 circa livello davvero più importante nel medio periodo è stato il livello che ha tenuto su le quotazioni durante il 2021 e che negli ultimi settimane è stato ritestato almeno in due settimane quando era scoppiato il caso delle banche regionali statunitensi ma quello che vi vorrei far notare che da ottobre 2022 il DAX ha performato con i massimi intesi ma più 30% circa una performance davvero importantissima in un semestre circa ecco anche qualora dovesse arrivare una correzione fino a un'area quindi 600 se ci fate caso non va ad intaccare quella che è la struttura del mercato massimi e minimi crescenti e che quindi possono ancora una volta definire il trend in corso crescente quindi ecco anche se appunto ci dovessimo imbattere in quello che è una correzione più profonda sarà magari un'occasione per valutare nuovi ingressi al rialzo ma è ancora presto per parlarne andiamo con calma e cerchiamo di non farci prendere dal panico e soprattutto vista la premessa iniziale nella prima parte del video anche se è recessione non possiamo parlare di crolli futuri di scenari di chissà quale pericolosità con calma chi magari avede una correzione in corso magari può scegliere se iniziare a parzializzare magari una posizione presa in carico in precedenza e chi magari vuole speculare magari lo fa o lo ha fatto dai livelli di resistenza più alti insomma noi come sempre cerchiamo di fare tutto questo all'interno per esempio del percorso ma comunque sia l'invito che facciamo come al solito in questi video gratuiti che trovate all'interno del nostro canale youtube è sempre duplice sia lato investitore sia lato speculatore e soprattutto infine per chiudere questo video lato investitore che cosa sta accadendo al bund beh andiamo a prendere stavolta il derivato e soprattutto facciamo attenzione alla dinamica in corso nelle ultime settimane in particolare 2 3 c'è stata una perdita di circa 4 figure proprio nelle ultime tre settimane dai massimi a 137 siamo rifiniti praticamente a 133 nelle ultime ore il livello più importante forse potrebbero essere leggermente i livelli o meglio più importante potrebbero essere leggermente al di sotto minimi di gennaio 2023 132 circa e soprattutto e lì scatterebbe davvero forse l'allarme i minimi toccate fine marzo e cioè poco sopra re 130 questi sono i primi riferimenti come supporto da prendere in considerazione per quanto riguarda il bund e soprattutto ecco da lì in poi potremmo iniziare davvero a valutare eventuali acquisti chiaramente perché sotto questo aspetto chi è un investitore e che appunto è interessato al bund ha dall'altra parte una cedola piuttosto interessante ma come sempre step by step ci riaggiorneremo nei prossimi video e soprattutto fatemi sapere la vostra attraverso i commenti io come al solito vi ringrazio doppiamente se volete mettere un like a questo video spero che questi punti siano stati interessanti magari vi riaggiornerò in futuro su quelle che sono stati gli ulteriori sviluppi sull'economia tedesca fatemi sapere la vostra e al solito vi ringrazio anticipatamente vi auguro una buona giornata e come sempre vi attendo al prossimo video grazie a tutti